La New Basket Brindisi si appresta a completare l'ennesima settimana di preparazione all'impegno di campionato, quinta giornata di regular season di Lega 2, con il Palapentassuglia di Brindisi che ospiterà domenica 30 ottobre la Sigma Barcellona, un'altra rispettabile formazione di quelle che già solo per la loro storia hanno reso in questa stagione il torneo interessante e nello stesso tempo altamente difficoltoso per le compagini decise a contendersi la vittoria finale ed il posto nella massima serie. Entrambe le squadre vengono da un cammino non entusiasmante con due vittorie su quattro partite, sull'assi basket Ostuni e la primaveroli Brindisi e sull'agge Timola e la fulgor Libertas for Li Barcellona. Un altro crocevia quindi per la New Basket da colmare con lo spirito di squadra e con quella rabbia agonistica tanto predicata da coach Bucchi. La squadra biancazzurra ha ritrovato Jimmy Lee Hunter, rientrato lunedì scorso dagli Stati Uniti dopo essere partito improvvisamente alla notizia della prematura morte del fratello. L'allenatore dovrà comunque poter contare sulla migliore condizione dei suoi atleti per far fronte all'impegno di Coppa Italia che due giorni dopo il turno casalingo di campionato con Barcellona prevede il turno dei quarti di Coppa Italia, con i Brindisini impegnati in trasferta contro la Morfo Piacenza. Nella consueta conferenza stampa settimanale con i giornalisti coach Piero Bucchi accompagnato da Craig Callahan, sottolinea come la squadra stia lavorando giorno dopo giorno duro e bene, con una qualità necessaria all'appuntamento con Barcellona che secondo l'allenatore biancazzurro costituisce, almeno sulla carta, la squadra con l'organico migliore di questa Lega 2. La tipologia di allenamento non cambia nonostante il doppio appuntamento Barcellona-Piacenza. Il coach crede sicuramente nella possibilità dei propri uomini, soprattutto dopo la convincente vittoria con Veroli, anche se quello che manca ancora la maturazione di squadra che serve a fronteggiare i vari momenti della gara nella maniera giusta. Sereno e sorridente anche il gestista americano che ribadisce la volontà personale di voler giocare a servizio della squadra e di volerlo fare bene anche perché a Brindisi si trova benissimo per la città, il clima, i tifosi ed il livello del campionato a cui sta partecipando.